Io parolio anche con Marta Pedrotti che rappresenta l'ego shop, da quanti anni c'è l'ego shop? Da dieci anni. Da dieci anni, quindi anche voi festeggiate come noi in decennale, no? In centro Brescia, quindi Piazza Vittoria, qual è la vostra particolarità? Allora, la vostra particolarità è che noi comunque, nonostante il tempo di bovide, le cerimonie comunque ovviamente su un po' quel che sono, e comunque siamo fatti rettorti oltre uno suo abito da giorno e abiti da sera, anche questo tempo, ma comunque su diciottesimi in cerimonia, o comunque qualche abito da concorso, se siano altri in paio. E so che voi organizzate, peraltro, anche concorsi importanti, che hanno visto ragazze vincere e poi diventare delle celebrità. Allora, diciamo, diciamo. In rete noi vi troviamo, dacci tutti i riferimenti. Allora, ci trovate sulla nostra pagina Instagram, che è appunto EgoShopBS, ci trovate sulla nostra pagina Facebook, EgoShop, e il suo sito internet, che è www.motteloshaportai.com Chiara, concisa, perfetta, grazie a Marta Pedrotti, viva EgoShop! Grazie a tutti!